Buon saluto amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un video super veloce perché sarà un unboxing quindi unboxing 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 è una busta da amazon japan e chissà cosa c'è dentro scopriamolo subito busta 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 le due nuove tamas macard per il tamagotchi smart allora guardiamole insieme questa è la tamas macard gourmet france tutta incentrata sul cibo quindi cioè già è bellissimo i colori li amo tipo ketchup e maionese e guardate qua che personaggi super carini si possono ottenere due femmine e due maschi tra l'altro due sono del mix non so se vi ricordate anzi questi qua tre e questo è diciamo quello speciale per lo smart questa specie di scogliattolino pane pagnottina o mio dio non vedo l'ora di installarla infatti penso le installerò subito la seconda è la tamas macard cosmetic friends ovvero una card incentrata tutto sul mondo dei cosmetici e del make up della bellezza è molto molto delicata secondo me come tamas macard è super bella ci sono le tre classiche bimbe tamagotchi un po snob un po vip del mondo tamagotchi e questo nuovo personaggio super bellissimo che è un tamagotchi sembra tipo cipria guardate i quadranti quanto saranno belli sicuramente adesso quindi le aprirò e le installerò penso che installerò gourmet friends prima sul tamagotchi smart coral pink invece l'altra cosmetic friends la installerò qui nel tamagotchi nisiu sono molto contenta di averle preso e appunto le trovate su amazon japan vi lascio il link in descrizione mi raccomando prendetele in arrivo ci sono altre due tamas macard in uscita per fine marzo che sono la tamas macard dedicata alla musica music friends probabilmente si chiama e la tamas macard pastel friends ovvero tutta pastellosa che comunque poi ci sarà pasqua quindi super in tema ovviamente anche per queste due tamas macard arriveranno i video dove potremmo vedere insieme tutti i loro contenuti e quindi aspettate con ansia quel momento bene io direi che per oggi è tutto per questo velocissimo video unboxing se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale se non siete iscritti iscrivetevi al gruppo di tamagotchi italia su facebook mettete un bel mi piace alla pagina di tamagotchi italia e noi quindi ci vediamo al prossimo video ciao amici iscrivetevi al canale ciao